Cari colleghi e cari colleghi, soci e soci della Sinfer, manca una settimana al nostro più importante appuntamento annuale che è il congresso nazionale che quest'anno come sapete si terrà a Bari presso l'hotel Nicolaus. Ne ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e che stanno lavorando duramente per preparare questo evento, in particolare il presidente Pietro Fiore e i colleghi tutti della segreteria e del gruppo regionale Sinfer Puglia. Vorrei invitarvi caldamente a partecipare a questo evento non solo per la sua valenza scientifica e culturale che si preannuncia buona ed elevata sicuramente nei contenuti ma anche perché dovrà essere un'occasione di confronto, di riflessione, di pensiero anche sul positivo, su quelle che sono le prospettive della nostra disciplina, della nostra professione, della fisiatria, in un momento sicuramente non facile perché sappiamo tutti quali sono le problematiche che incombono sulla sanità, sulla professione medica in generale. Devo dire però che l'ottimismo ci deve contraddistinguere perché è vero che la nostra disciplina, la fisiatria, la medicina fisica e le abitativa hanno un'immagine verso la comunità che forse noi stessi siamo portati a volte a non considerare in tutta la sua pregnanza e in tutta la sua visibilità. La società, la comunità si aspettano molto da noi e sta a noi essere all'altezza di questo compito quindi spero che arriveremo e staremo insieme a Bari in questa specie di casa comune della fisiatria per questi tre giorni e che ne usciranno sicuramente nuove proposte e spero anche e ne sono certo una rinforzata identità professionale e un rinforzato affetto verso la nostra disciplina. Grazie e arrivederci a Bari e a presto.